Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso dei comuni di San Benedetto e Martinsicuro su un rinnovo di una trivellazione a largo proprio della foce del fiume Tronto a 22 km di distanza. Gli ambientalisti però promettono battaglia, insomma non sarebbe finita qui. Io ritengo che sia stato un errore, ma l'errore nasce da lontano. Come dissi l'anno scorso quando emerse questo problema, il governo Conte aveva la possibilità attraverso il PITESAI di individuare le aree che dovevano essere escluse da queste attività di ricerca e non hanno escluso l'area in questione. Bastava escludere l'area in questione per evitare ogni problema. Quindi oggi noi paghiamo delle scelte politiche che sicuramente vanno a danneggiare un territorio come il nostro. Il secondo elemento che purtroppo ci penalizza è che da oltre 20 anni è fermo il progetto del Parco Marino, che una legge nazionale lo individua come un'area marina da istituire insieme ad altre aree marine. in una legge nazionale degli anni 90 e siamo a distanza di ormai quasi 30 anni che tutto è fermo. La presenza di un'area marina protetta molto probabilmente avrebbe ulteriormente reso più complesso il rilascio di un'autorizzazione di questo genere, perché molto probabilmente la valutazione di impatto ambientale in presenza di un'area marina protetta sarebbe stata necessaria. Quindi questo è un motivo in più per dire che costituire delle aree marine protette in realtà non è un limite, ma è assolutamente un vantaggio per territori come il nostro che fanno del turismo e della tutela dell'ambiente un elemento fondamentale per il proprio sviluppo.